E' vero, ciclismo pochi nel senso che non ho mai fatto niente di agonistico, ho adoperato la bicicletta da cittadino quindi non ho un vero legame. Però il Giro d'Italia-Arezzo è un grande onore, sarà un grande divertimento. Io mi ricordo quando ero ragazzino che mia madre insegnava la Margaritone e mi portava a una finestra della Margaritone per vedere l'arrivo del Giro d'Italia su Via Crispi. Stavolta si arriva come negli ultimi edizioni che sono passate da Arezzo in Viale Giotto e quindi l'assicurazione è che sarà una bella giornata. Sarà entusiasmante il saliscendi anche con gli sterrati in discesa da San Veriano che credo sia una cosa incredibile e poi un arrivo ad Arezzo che si presenterà nel miglior modo possibile. In ogni caso un ottimo spot, una bella cartolina per la città. Assolutamente, io ricordo senza tema di imbarazzo l'arrivo del Giro d'Italia in tappa a Firenze l'anno scorso fu uno spettacolo pazzesco e penso che quest'anno Arezzo possa fare altrettanto. è un grande veicolo per promuovere l'immagine della città, perlomeno in Italia. Non sarà la maglia rosa anche lei? Io in questo momento da primo cittadino ce l'ho già, vediamo se non se la fare strappare. Ok. Allora.